Fondamentalmente è una prova perché voglio capire se riesco a fare una cosa, ma questo si scoprirà tomorrow, che in tedesco significa domani. Io ho un grande nemico, gli zuccheri, e ora sono in Sardegna e il mio peggior nemico è la Seatas. Niente, sono in Sardegna, mi sono appena fatto 5 km a piedi per schiudere le uova dei Pokémon, e bomba così. Continuo l'esperimento di Snapchat per il video di domani e sono qui in compagnia di tanta bella gente, sì, proprio così. Buongiorno ragazzi, mi sono appena svegliato, faccio mettere un po' di luce. Bondi, si vede? Ma se i telescopi sono fatti con gli specchi, noi non sapremo mai se ci sono degli alieni vampiri, no? Ci pensavo stamattina e... Buongiorno a tutti.